E Bob Marley ovviamente fu anche il massimo rappresentante di un genere musicale, le reghe, che è nato in una sperduta isola canaibica, la Giamaica, sperduta in senso culturale rispetto alle grandi capitali, Londra, New York, conquistò in pochissimo tempo il mondo, per un tempo completamente rovesciato, vagamente zotto, che io feci per la prima volta sentire alla radio nel lontanissimo 73, in una trasmissione che si chiamava Per voi giovani, e avevo portato questi dischi dall'America e feci sentire questo ritmo, e scrissi anche un paio di canzoni in questo ritmo, una, non la facciamo questa sera, ma era la CIA, non tenuta nessuno, e poi, proprio in un certo senso, per commemorare Madone, nell'Ottanta, questa Valeria come stava, che vedeva il clarinetto degli assoli di Lucio Dalla. Valeria come stai? Valeria come stai? PALLAH Avevo parameters dove vai, ho saputo come chi te la fa, oh ma chi l'avrebbe detto, ma davvero non so come fa, ah stata a con uno come lui, E lui ti controllerà e passo a passo ti sorveglierà Che non ti dovi la fantasia con una gran brutta mamma Io vivo come stai, come stai, come stai, mamma Mi faccio infatti me, con tutti i casini che stai ormai E non vado per cercare qua, oggi guarda pippo le amo le Che faccia bene così Con il tuo mondo che sono in fai Per abil quantità nipì, chi vive là e per acci E ripara da la mia ragione qui E se con lui e se chi riuscira Se chi riuscira Io vivo come stai Carina, let's make this a messy scene I mean, don't think I've ever seen Well, we both are where you've been, where you've been, where you've been, baby So, Carina, keep it clean It's been a grand event I think I've ever seen something Yeah, by now I see you yawning in your Curvy, fire, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah So, Carina, you don't care You don't care So, Carina, you ain't care Damn you, Carina Grazie Grazie